Un pullman per sensibilizzare ai temi della sicurezza stradale. Giovedì 16 novembre, nell'ambito della 25esima edizione di scrittori in città, la Polizia di Stato è stata in Piazza Galimberti a Cuneo dalla mattina al pomeriggio con il cosiddetto pullman azzurro. Il veicolo ha voluto essere una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante destinata, come detto, alla sensibilizzazione, in particolare dei più giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale. Con particolare riferimento ai comportamenti da tenere quando si viaggia in auto, si cammina o si conduce il proprio velocipide o motociclo. Per i più piccoli è stato allestito anche un percorso stradale educativo con segnaletica verticale per le biciclette. Nell'occasione, gli operatori della Polizia Stradale hanno divulgato una serie di messaggi sulla cultura della sicurezza attraverso percorsi, giochi a tema, filmati e test di ogni genere, tra cui anche la simulazione della guida in stato d'ebbrezza attraverso l'uso di un visore che altera la percezione visiva.